La donata biancorossa è stata carica di entusiasmo e ha radunato al Franco Ossola tanti ragazzi e bambini che sognano di indossare la maglia del Varese. Il neonato vivaio è stato affidato a un uomo di esperienza come Roberto Verdelli. Siamo qua oggi per la prima giornata di Open Day del nuovo Varese che ha deciso di puntare sul vivaio con la missione di ricostruire quello che c'era fino a qualche stagione con un gruppo dirigenziale nuovo che è partito da cose concrete investendo sulle strutture. Siamo consapevoli che è l'anno zero ma convinti che nel giro di qualche stagione riusciremo a ricostituire il vivaio nella sua totalità. Oggi partiamo con la volontà di fare quello che riusciremo senza l'assilo di dover fare per forza tutte le squadre ma comunque ci proveremo sia per quanto riguarda l'attività della scuola calcio l'attività scolastica, l'attività di base sia per quanto riguarda il settore giovanile agonistico. La scuola calcio e l'attività di base per ora avrà una finalità di partecipazione quindi accoglieremo tutti i ragazzi. Il settore giovanile nel giro di qualche stagione dovrà diventare un punto di riferimento per la crescita e quindi sarà più selettivo nella speranza di metterci il meno tempo possibile per creare delle squadre più qualitative con la missione di formare i ragazzi dal punto di vista calcistico secondo il loro potenziale nella speranza che qualcuno possa arrivare nella nostra prima squadra e creare un'identità forte sull'attività che vorremmo fare per preparare futuri calciatori. Nel vivaio spiccano figure di primissimo piano come Davide Bottone, ex calciatore del Varese e del Torino pronto a trasmettere la sua esperienza ai ragazzi. Sono molto contento di essere qua sappiamo che facciamo parte di un nuovo progetto ma questo non ci spaventa siamo motivati, abbiamo voglia di metterci in mostra di dare tutto quello che abbiamo e sicuramente raggiungeremo l'obiettivo. Dopo due anni a Chiasso ho avuto questa opportunità di venire qui a Varese e niente, sono molto contento non vediamo l'ora di iniziare.